Cammela, sei stata chiamata a partecipare a questo Migrate, come mai hai deciso di accettare? Come testimonia, innanzitutto, come ho detto anche in conferenza, perché porto un nome che già di per sé è una storia, perché credo che l'integrazione sia l'unica via possibile per il futuro di Milano e di Ginevare dell'Italia e perché farò tutto ciò che è possibile per me fare per aiutare questo processo in modo che sia il più naturale, il meno violento possibile per tutti. Tu magari ti capita anche adesso, tu hai parlato della tua esperienza quando eri più piccola, ma prendendo i mezzi pubblici adesso, i milanesi come ti sembrano? Nuovi, vedo una nuova generazione di milanesi che si sta affacciando all'Italia e ne sono molto contenta. Si è fatto tanto parlare in questi ultimi giorni ovviamente di bruttissimi fatti di cronaca. Certo, tremendi e assolutamente starei attenta a quelli che vogliono troppo sedare la cosa come non eventi razzisti e non fomenterei neanche il fatto come è un evento razzista in fine se stesso. È un mix di entrambe e va condannato come tale, violenza xenofoba. Penso che i media debbano responsabilizzarsi e quando è possibile continuare a lanciare messaggi positivi e smetterla di fomentare questa rabbia, questa paura soprattutto, paura, smettiamola di mandare paura come messaggio. Diversi sono i motivi per cui ho accettato di venire qua oggi, infatti ringrazio ovviamente sia a T&M sia a Denskurti per avermi chiesto di essere presente. Il primo sta nel mio nome. Ho vissuto, che cosa vuol dire essere italiana e avere un nome che bisogna spiegare. Sono molto onorata di poter parlare oggi della C2, di poter parlare di come ci si sente italiani pur avendo un nome come questo, di come questo sia il futuro non solo di Milano ma dell'Italia. ho condotto una trasmissione che vedete l'onda domenica su Rai 3 in cui avevo come ospiti ragazzi della C2, seconda generazione. La domanda più stupida che è stata posta a loro, chiacchierato, è stata come ci si sente essere italiani. Ecco, quando me la chiedono, la mia esposta è come ti senti tu? Io sono italiana, sono nata a Milano, sono nata a Maggiagalli. Poco prima dell'estate la dottoressa Boioli e il sindaco Moratti mi hanno onorato di un premio Donna Milano. Questo è l'integrazione, questo è il futuro di Milano, questo è quello che secondo me è la grande genialità di questo progetto e delle foto che grazie al contrasto davvero rafforzano il messaggio che a T&M vuole. Questo è i nuovi volti di Milano, i nuovi volti dell'Italia. Quando sento lo straniero, è vero, la mia facilità era che, oltre antisomatici dell'italiana, questo mi ha facilitato nel non avere un pregiudizio nei miei confronti. Già al cognome negli anni 80 iniziavano i pregiudizi perché, insomma, trovo che sia arrivato il tempo che i milanesi aprono gli occhi sul fatto che fatti più in là un pochino, nel senso che c'è posto per tutti. È vero, c'è molta paura dietro ad alcuni anti di violenza, dietro ad alcuni gesti di tolleranza, e qua si uso la parola e la uso di proposito. Io un pochino la previsco quando sento la parola di tolleranza. Non bisognerebbe parlare di tolleranza, a mio parere. La tolleranza ha un'accezione negativa. Ti tollero, io non ti devo tollerare, io ti voglio conoscere, sono due atteggiamenti molto diversi.